I nostri amici ci aiutano davvero tanto. Qualcun altro ha visto quello che è successo? Questa amica ti è sempre stata molto vicina. Non ho nient'altro da aggiungere ancora. Io so qual è il vestito che ti piace di più. L'anno scorso non sei stato in vacanza. Viaggio spesso in auto sull'autostrada. Sul lago c'è un cigno, Maria lo osserva. L'odore di quelle spezie mi piace molto. Maria ha raccontato tutto alle amiche. Ci hanno detto che è stato un incubo. La tua è una bella idea, ma solo in teoria. Avete concluso un buon affare stamattina. Ci ho messo tanto tempo per capire. Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Non ci sono andati. L'altra volta pioveva. Vado spesso in moto da Pisa fino a Roma. Va, ma non ci mettere troppo tempo. C'è gente che inventa scuse ogni giorno. Da allora ho iniziato a mangiare più sano. D'ora in poi non ti racconterò più nulla. Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Non ci sono andati. L'altra volta pioveva. Vado spesso in moto da Pisa fino a Roma. Non ci sono andati. Va, ma non ci mettere troppo tempo. C'è gente che inventa scuse ogni giorno. Da allora ho iniziato a mangiare più sano. D'ora in poi non ti racconterò più nulla. Sul lago c'è un cigno. Maria lo osserva. L'odore di quelle spezie mi piace molto. Maria ha raccontato tutto alle amiche. Ci hanno detto che è stato un incubo. La tua è una bella idea, ma solo in teoria. Avete concluso un buon affare stamattina. Ci ho messo tanto tempo per capire. I nostri amici ci aiutano davvero tanto. Qualcun altro ha visto quello che è successo? Questa amica ti è sempre stata molto vicina. Non ho nient'altro da aggiungere ancora. Io so qual è il vestito che ti piace di più. L'anno scorso non sei stato in vacanza. Viaggio spesso in auto sull'autostrada. Luca ha invitato suo zio. Più tardi arriva suo padre. Racconto la mia avventura. Ti presento mia sorella. Ti presento le mie sorelle. Invitiamo le tue amiche. Prendete i suoi quaderni. Descrivo i tuoi genitori. Presentano mia madre. Dopo chiamo mio cugino. Questa è la mia famiglia. Più tardi vado a casa mia. C'è anche il tuo amico. A suo zio piace guidare. Gianni ha visto mia nipote. C'è anche il tuo amico. Io voglio. Volevo. Ho voluto. Io vengo. Venivo. Sono venuto. Io esco. Io tengo. Io tengo. Tenevo. Ho tenuto. Io sto. stavo sono stato io so sapevo o saputo io posso potevo ho potuto io faccio facevo ho fatto io sono ero sono stato io devo dovevo ho dovuto io dico dicevo ho detto io do io davo io ho dato io bevo bevevo ho bevuto io ho avevo ho avuto io vado andavo sono andato io leggo leggevo ho letto io chiudo chiudevo ho chiuso io vedo vedevo ho visto poco fa ho incontrato roberto luca guida l'auto da tre anni sarò a roma fra dieci giorni due giorni fa è venuto paolo da quanto studi l'italiano fra un mese parto per la spagna i bambini dormono da poco fra due anni finirò la scuola da quanto tempo conosci marco l'ho comprata nuova un anno fa l'estate inizia fra un mese non vedo sarà da due giorni ci sono già stato sei mesi fa un'ora fa stavo lavorando c'ero anch'io ma non ti ho visto claudia e luca sono a scuola i tuoi amici non ci vengono non lo hai detto né pensato giovanni viene ma non mangia puoi bere vino oppure acqua luca è stanco quindi non viene mangio sia la pizza sia il gelato o paghi o ti mando via sta piovendo quindi non esco elisa non parla perché è stanca claudia dice che hai ragione siccome piove uso l'ombrello te lo spiego così che tu capisca canto ogni volta che guido anche se a gennaio fa caldo se piovesse starei a casa bevo il caffè solo se è lungo è uscito come se avesse fretta adoro il blu ma odio il verde mangio tutto tranne il pesce marina sta cercando le chiavi noi stiamo parlando con i nostri amici io sto portando mia sorella a scuola tu stai ascoltando la radio Gianni sta cantando nel bagno voi state guardando i miei occhiali tu stai partendo per napoli loro stanno scrivendo alle sue amiche lui sta finendo di lavorare io sto avendo delle difficoltà tu stai dicendo quello che pensi voi state bevendo dell'acqua noi stiamo amando questo viaggio loro stanno cadendo dalla bici io sono tu sei lui lei è noi siamo voi siete loro sono io ho tu hai lui lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno io so io ho tu sai lui lei sa noi sappiamo voi sapete loro sanno io do tu dai lui lei dà noi stiamo io sto Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Io bevo. Tu bevi. Lui, lei beve. Noi beviamo. Voi bevete. Loro bevono. Io esco. Tu esci. Lui, lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Loro escono. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Io apro la finestra. Io ho aperto la finestra. Tu bevi l'espresso. Tu hai bevuto l'espresso. Marco chiede qualcosa. Marco ha chiesto qualcosa. Quando chiudono? Quando hanno chiuso? A chi dai la rivista? A chi hai dato la rivista? Voi non decidete? Voi non avete deciso? Anche lui dice la verità. Anche lui ha detto la verità. Loro sono in Italia. Loro sono stati in Italia. Che tempo fa? Che tempo ha fatto? Che cosa leggi? Che cosa hai letto? Dove metti quel libro? Dove hai messo quel libro? Chi perde spesso? Chi ha perso spesso? Cosa prendete voi? Cosa avete preso voi? Quale scegli, Maria? Quale hai scelto, Maria? A che ora scendono? A che ora sono scesi? A chi scrivete? A chi avete scritto? Io sto in casa. Io sono stato in casa. Vedo i miei amici. Ho visto i miei amici. A che ora vengono? A che ora sono venuti? Dopo cena bevo il caffè. Dopo cena ho bevuto il caffè. Ho portato io i biscotti. Ho portato io i biscotti. Sono a casa. Fra tre giorni parto. Ho un regalo per te. Mi siedo su una sedia. Sono in piazza. Esco da casa. Dormo in tenda. Lo chiedo a te. Sono tra due auto. Ti scrivo da lontano. Sono per strada. Sono di Venezia. Da noi piove. Ciao a tutti. Non so. Non so. Non so. Grazie a tutti